E in questa inchiesta sono coinvolti gli uomini di De Mita, quindi del cosiddetto centro, gli uomini della Meloni, della cosiddetta destra, e la famiglia di Vincenzo De Luca, in cui io non credo che Roberto De Luca parlasse per se stesso quando consigliava a quel camorrista gli ingegneri della regione Campania che rispondevano a suo padre. Quindi è chiaro che è un sistema di potere, ma questa cosa ce la siamo raccontata, la conoscevamo, conoscevamo il loro modo di fare, solo che questa inchiesta ce l'ha fatto vedere con gli occhi quello che sapevamo, c'è una bella differenza tra il sapere e il vedere, e quello che abbiamo visto è il vero volto della camorra, i politici, quello è il vero volto della camorra.